Un saluto a tutti da parte di Piero Gipardo e Luca Marcheggiani Potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo Eccoci, si comincia Cerca la profondità, Sergio Ramos Battuta lunga Occasione Pallone rubato Benzema Tiro debole, nessun problema per il portiere Era proprio Questa è un'azione fantastica D'altronde conosciamo bene la sua capacità nel saltare l'uomo Benzema Qui è andato molto lontano dallo specchio Ci prova L'arbitro controlla il cronometro Arriva il fischio dell'arbitro Può bastare per questo primo tempo Si parte, secondo tempo Sergio Ramos Recupera un pallone interessante C'è un'altra occasione Decisamente fuori bersaglio Doveva assolutamente andare a segno Ma lui non ci è riuscito Metterla in mezzo Prova il cross in area Occasione Occhio ai tanti centimetri al centro dell'area di rigore Occhio al colpo di testa Completamente Cerca la profondità E' pronto per la battuta del calcio d'angolo Ecco il tiro Ruba palla Un errore davvero molto simile al gioco Attenzione La colpisce Che tiro Qui la palla ha proprio sfiorato il palo Tempo che intanto passa Questi sono gli ultimi minuti di gioco Non devono sprecare tempo in questo possesso palla C'è spazio per calciare A bere il compagno Si conclude dunque la sfida Con il tisco dell'arbitro Tisco finale dell'arbitro Che chiude qui il match Sicuramente puntavano alla vittoria Che non è arrivata E' davvero tutto Grazie per averci seguiti In questa bella serata di calcio Grazie a tutti Ai nostri tecnici E soprattutto A Luca Marcheggiani Grazie Grazie